usangi kit e vip bellissima manifestazione io partecipato l'anno scorso è stata una bellissima esperienza e spero che quest'anno ci sarete in tanti in piazza perché abbiamo bisogno di aiutare e aiutarci verranno se verrete avete darete il sangue donerete il sangue e vi daranno anche vi farete del bene in pratica e farete del bene io non posso che salutarvi o sangi e kit e vip o sangi e kit e vip o uh rangi e feedback uunghi e da vip o uh rangi e